questo programma è offerto da amici ben ritrovati da più di 25 anni mondo relax produce una vasta gamma di poltroni studiate per garantire il massimo del benessere e del comfort siamo prossimi al natale e mondo relax ha pensato a voi con un'offerta straordinaria abbiamo realizzato la poltrona italia disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta approfittate di questo periodo natalizio con lo sconto in corso avrete la poltrona italia completa di ruote e seduta in memory a soli 209 euro le poltroni mondo relax hanno schienale pediera indipendenti potete alzare la pediera lasciando lo schienale dritto oppure scegliere gravità zero i piedi si alzano a livello del cuore per un beneficio della circolazione sanguigna con la funzione alza persona potete alzarvi in piedi senza sforzo i brevetti le soluzioni che abbiamo adottato sono spesso diventati riferimenti di mercato lunga la pediera allungabile da noi brevettata la superficie di appoggio è la più ampia della categoria estesa la pediera auto retraente semplice e comoda il role system per spostare la poltrona anche con la persona seduta o se preferite la versione motorizzata per movi in autonomia con un sempre joystick mondo relax in questo periodo vi offre consegna immediata rotamazione permuta dell'usato con smaltimento gratuito inoltre garanzia di 5 anni con assistenza in tutta italia approfittate della straordinaria offerta pagabile in piccole rate chiamate il numero di sovraimpressioni per informazioni mondo relas garanzia di benessere e qualità professionisti del relas 20.000 persone in piazza secondo le stime di cgl will hanno sostenuto stamane lo sciopero a napoli contro la manovra finanziaria del governo la richiesta di più politiche a sostegno dei lavoratori arrestato il 46enne che ieri ha seminato il panico alla asl napoli prima ha chiesto altre sacche per catetere poi ha preteso un buono d'acquisto infine ha sequestrato in un ufficio il personale sanitario svolta nella battaglia sul no alla quarta linea dell'inceneritore il governatore incontra il vescovo di acerra si aumenta la differenziata l'ipotesi di un passo indietro un comitato per le future scelte la camera ha approvato il decreto campi flegrei finanziato per 55 milioni ora tocca al senato diversi gli interventi previsti non il sisma bonus ma il contento dei sindaci dei comuni interessati ucciso a 24 anni a napoli stamane la toccante consegna ai familiari di giovanni battista cutolo della medaglia d'oro al valore civile alla memoria la sua morte non resterà vana l'impegno del ministro piante dosi la corte d'appello di napoli ha condannato fincantieri site sp al risarcimento di un milione di euro alla famiglia di un ex operaio morto a 72 anni a causa di mesotelioma contratto dall'esposizione all'amianto il calcio scommesse torna a scuotere il benevento la guardia di finanza è andata a bussare all'abitazione di cristian pastina il difensore ancora in forza alle streghe con lui sotto accusa altri tre ex calciatori giallorossi il presidente del napoli aurelio de raurentis chiede lo stadio il sindaco manfredi aspetta un progetto da presentare alla città botte risposta a distanza tra i due sul futuro del diego armando maradona the 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 Buon pomeriggio Campania. Ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV. In primo piano le questioni del lavoro con 20.000 persone scese in piazza secondo le stime di CGL Will e che questa mattina hanno sostenuto lo sciopero a Napoli contro la manovra finanziaria. Le richieste di più politiche a sostegno dei lavoratori. I lavoratori di quattro regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria hanno dato vita questa mattina a Napoli allo sciopero indetto da CGL Will per cambiare la legge di bilancio 2024. La piazza piena ha fatto registrare secondo i promotori circa 20.000 presenze. Il segnale è molto positivo, è quello che stiamo dicendo in queste settimane. La manovra che il governo sta facendo non ha il consenso della maggioranza del paese perché non affronta i problemi che le persone stanno vivendo. Dall'aumento delle bollette, dai salari che non ti permettono di arrivare alla fine del mese, dalla sanità che non funziona, dalla precarietà che è troppo alta, dagli investimenti che non vengono realizzati, da una lotta all'evasione fiscale vera da cui andare a prendere le risorse. Da Napoli un popolo che non solo dice no a questa finanziaria, ma bisogna iniziare a colpire gli evasori fiscali, bisogna che ci sia una capacità di intervenire sugli extra profitti perché vogliamo un mezzogiorno diverso e lo vogliamo soprattutto conservando il nostro apparato industriale. Quindi questa piazza dice no a una finanziaria che non prevede nessuna opportunità di sviluppo, anzi i tagli nella sanità ci preoccupano fortemente, come ci preoccupa ancora di più un'idea di ridimensionare la nostra capacità delle scuole. Ecco perché noi vogliamo un paese diverso e lo si può fare soprattutto se un mezzogiorno riparte con lo sviluppo. E' stato arrestato, siamo alla cronaca, il 46enne che ieri ha seminato il panico nella ASL Napoli 1, arrivando a sequestrare in ufficio il personale sanitario. A 46 anni l'uomo che ieri si è presentato nella sede del distretto sanitario del CLASL Napoli 1, in via Pietro Amendola, nonostante l'orario di chiusura, è entrato da una porta di emergenza e ha spintonato il vigilante. Ha voluto incontrare il personale medico per lamentarsi del materiale sanitario ritirato qualche giorno prima. Le sacche per catetere destinate alla cura della madre anziana erano di pessima qualità e in numero esiguo ne pretendeva altre. Ha minacciato tutti e uno dei dipendenti terrorizzato è uscito per acquistare altre sacche di tasca propria. Quando gliel'ha consegnata il 46enne le ha lanciate contro il dirigente, aveva cambiato idea, ora pretendeva un buono d'acquisto. Ricevendo un comprensibile rifiuto l'uomo ha raccolto i presenti e li ha rinchiusi in un ufficio. Prima di farlo ha preso a pugni il vigilante Reo di essersi messo in mezzo. Avrebbe poi minacciato, da qui non esce nessuno, prendo la benzina e vi brucio tutti. I carabinieri e il nucleo radiomobile di Napoli, allertati dai dipendenti sequestrati, sono arrivati in pochi minuti. Il 46enne era ancora davanti alla porta dell'ufficio dove aveva rinchiuso tutti. È finito in manette, pertentata rapina e sequestro di persona, ora è in carcere in attesa di giudizio. Andiamo ad Acerra perché c'è una svolta nella battaglia sul no alla quarta linea dell'inceneritore. Il governatore ha incontrato il vescomo, si aumenta la differenziata, l'ipotesi di un passo indietro, un comitato per le future scelte. Novità nella battaglia contro la realizzazione della quarta linea dell'inceneritore di Acerra che nelle intenzioni della regione serve alla manutenzione dell'impianto, nei timori dei comitati a potenziarlo. Faccia a faccia ieri tra il vescovo Antonio Di Donna e il governatore Vincenzo De Luca al termine la nota stampa condivisa emanata da Palazzo Santa Lucia nella quale si leggono impegni alla trasparenza nei dati sanitari e nelle future decisioni su Acerra. Dopo il focus ASL sul registro tumori fermo al 2018, viene annunciato l'aggiornamento tempestivo con l'ausilio di autorità scientifiche dei dati epidemiologici. In questo contesto la regione sospenderà ogni decisione relativa al termovalorizzatore e all'ipotesi di quarta linea avviando una ricognizione dettagliata e attualizzata sui programmi di smaltimento dei rifiuti e il passaggio chiave del comunicato che congela la decisione. Sull'eventuale stop per mancata manutenzione dell'impianto nessuna ripercussione nella raccolta rifiuti in Campania se ci sarà la corresponsabilità di tutti. Auspicato nel comunicato è l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata e l'entrata in funzione di impianti di compostaggio. Infine, dalla regione gli impegni a non autorizzare l'installazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti nell'aria, verifiche sugli impianti esistenti e la nascita di un comitato di saggi con rappresentanze territoriali scientifiche di persone terze con cui verificare in un clima, si legge ancora di trasparenza e collaborazione, tutti i programmi e le decisioni da porre in essere in futuro. Buone intenzioni. Ed ora parliamo di un maxi sequestro di sigarette di contrabando operato dalla Finanza per un valore sul mercato di circa 150 mila euro. Maxi sequestro di sigarette di contrabando contraffatte nel quartiere Piscinola di Napoli dove il Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha arrestato due persone. Complessivamente sono state trovate su un furgone in un deposito 1.100 kg di bionde che avrebbero fruttato un guadagno stimato in 150 mila euro. In manette sono finiti l'autista del furgone, notato e pedinato dai finanzieri, e il proprietario di un deposito dove il veicolo si è poi diretto per caricare le sigarette. I militari hanno atteso che il furgone uscisse dal deposito per sottoporlo ad un controllo ma il conducente è fuggito. E' stato fermato dopo un inseguimento. Trasportava 13 cartoni contenenti 650 stecche di tabacchi lavorati esteri contraffatti del peso di 130 kg con i simboli di note marche di sigarette estere. D'obbligo a questo punto la perquisizione nel deposito dove è stata trovata quasi una tonnellata della stessa tipologia di sigarette. Ed ora parliamo del decreto Campi-Flegrei che sta per diventare legge. Ieri l'approvazione alla Camera. E' stato approvato dalla Camera il decreto Campi-Flegrei per le misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico. Servirà solo il passaggio formale al Senato per convertirlo in legge entro l'11 dicembre. 133 voti a favore con 86 astenuti soprattutto nelle fila delle opposizioni. Gli 8 articoli del decreto comprendono il ricorso e procedure semplificate da altre accelerazioni per affronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno. Il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate e per la riqualificazione sismica dell'edilizia esistente individuando priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. L'adozione di un piano di comunicazione per la popolazione e l'elaborazione di uno specifico piano di emergenza elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile in raccordo con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli e le amministrazioni territoriali interessate. Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. La copertura finanziaria complessiva è di circa 55 milioni di euro per gli anni 2023-2024. La nota dolente arriva con il sisma bonus 110% che non è stato previsto. Una misura non confermata dal governo che ha scatenato le proteste dei sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Napoli, Gaetano Manfredi, di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione e di quarto Antonio Sabino che con una nota congiunta precisano che continueranno a insistere affinché il governo possa dare priorità a questo strumento necessario per rendere resilienti i campi flegrei al bradisismo. Ed ora andiamo in Prefettura Napoli. Pochi minuti fa si è conclusa la cerimonia di consegna della medaglia alla memoria per Giovanni Battista Cutolo. Toccante la cerimonia per il conferimento della medaglia d'oro al valore civile è alla memoria di Giovanni Battista Cutolo, il musicista di 24 anni, ucciso a fine agosto in piazza Municipio per difendere un amico. Gio Gio è divenuto il simbolo della parte sana di Napoli che non si gira dall'altra parte rispetto a criminalità e atteggiamenti camorristici che sempre di più coinvolgono giovani e giovanissimi. Rappresenta un esempio, come ho detto. È difficile, è una cerimonia questa che rinnova il dolore, e quindi la tragedia, e quindi era difficile comunque tenerla, ma l'abbiamo voluto fortemente non solo per rinnovare anche i sentimenti di vicinanza alla famiglia, ma perché anche questo riconoscimento va oltre il dato meramente formale. Gio Gio è un ragazzo che non si era girato dall'altra parte, che aveva fatto della sua anima, della sua bontà interiore, un messaggio di speranza perché si era prodigato per salvare un amico. E questo è un messaggio che noi dobbiamo lasciare alle nostre giovani generazioni. Per cui il significato di questa medaglia è che il messaggio che ha lasciato Gio Gio non cada nel vuoto. Appropriarsi di una coscienza collettiva, aiutare il prossimo, stare sempre dalla parte dei deboli. Mio figlio era questo. Purtroppo gli è andata male perché ha trovato questo malvivente terribile che l'ha sparato, ma il fatto che mio figlio abbia protetto un amico per salvarlo da una condizione di difficoltà è un esempio meraviglioso di bellezza, perché Gio Gio è l'icona della bellezza, è lo stigma della bellezza. C'è poca vigilanza e ovviamente anche quel 31 agosto mio figlio è morto perché c'era poca vigilanza, diciamola tutta. Infatti io auspico che adesso con la venuta del nuovo prefetto, insieme al questore, al procuratore Gratteri, tutti quanti insieme possiamo veramente fare dei tavoli di confronto e stabilire veramente una massiccia, un massiccio controllo del territorio perché Napoli è un colabrodo, è pieno di anfratti e di situazioni veramente pericolose. Poi bisogna dirlo signori, c'è una movida assurda tutti i giorni, non è la movida degli anni 80 che ci riunivamo il sabato sera e si faceva a Baldoria. Oggi la movida è dal lunedì alla domenica con ragazzi dopati, pieni di alcol, pieni di droga e ovviamente questo diventa una bomba sociale. Se non si fa una vera, esatta riforma della legge rispetto ai minori, noi, ve lo dico adesso, sarò profetica, ci troveremo un'Italia invasa da minori impuniti che uccideranno le vostre madri, i vostri figli, le vostre sorelle e i vostri amici. Ecco, questa è la profezia che vi farò. Ed ora andiamo a Caivano, la regione investe incentivi per chi assume. La regione Campania ha attivato nel comprensorio industriale di Caivano uno sportello lavoro che offre servizi alle imprese che favoriscono l'incrocio domanda offerta di lavoro. All'inaugurazione è intervenuto il presidente Vincenzo De Luca che ha sottolineato l'importanza e la concretezza di questa iniziativa per il territorio dell'area nord di Napoli e in particolare per Caivano. Lo sportello comprende le seguenti attività orientamento, accompagnamento al lavoro, incentivi alle assunzioni, autoimprenditorialità, formazione on the job. La regione Campania, in collaborazione con l'ASI di Napoli e l'assistenza tecnica di Ampal, eroga servizi alle imprese nell'individuazione di fabbisogni e di competenze. Si tratta di politiche integrate per la rinascita e la riqualificazione del territorio di Caivano e dell'area nord di Napoli. Un intervento importante e concreto per dare lavoro ai giovani di Caivano, della zona. La regione Campania ha deciso di investire 7 milioni di euro per i servizi di incentivo al lavoro. offriamo 7 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato alle imprese, 2 mila euro di contributo per ogni assunzione a tempo parziale, ma soprattutto finanziamo come regione con 600 euro al mese la formazione professionale da fare dentro le aziende per sei mesi. Quindi è un aiuto importante fare assumere giovani sulla base di un rapporto di collaborazione con il mondo imprenditoriale per garantire una formazione sul posto. Torniamo alla cronaca. Gragnano, ispezione dei NAS dei Carabinieri di Castellammare e di Stabia in due noti caseifici del posto durante il controllo nell'azienda Stabiese sono stati sequestrati 6 litri d'olio, oltre 7 kg di insaccati privi di tracciabilità e 10 kg di pane non imbustato, elevate sanzioni per 30 mila euro. Sequestrato il laboratorio, i due amministratori denunciati alla Procura della Repubblica nell'attività gragnanese è stata accertata anche la presenza di un lavoratore irregolare, mentre all'alba nell'azienda Stabiese sono stati contestati illeciti amministrativi e penali nel caseificio i Carabinieri hanno rinvenuto 5 lavoratori in nero. Il calcio scommesse che torna a scuotere in questo caso il Benevento la finanza è andata a bussare alle porte di un difensore in forza alle streghe con lui sotto accusa altri tre ex calciatori giallorossi. Perquisita la casa il difensore del Benevento Cristian Pastina le indagini sulle scommesse illegali nel mondo del calcio proseguono e si espandono anche nei campionati di Serie B e Lega Pro. Ieri mattina, come si legge dal mattino, la Guardia di Finanza intorno alle ore 7.20 ha perquisito la casa il difensore giallorosso sequestrando i dispositivi elettronici presenti all'interno dell'appartamento. Perquisizioni che serviranno per analizzare i dati su scommesse effettuate su siti illegali e se in particolare venivano effettuate su partite di calcio. Pastina sarebbe coinvolto nell'inchiesta insieme a Massimo Codo della Cremonese Francesco Forte del Cosenze e Gaetano Letizio della Feral Pisolo quest'ultimo ancora di proprietà del Benevento. Il provvedimento è scattato per violazione dell'articolo 4 della legge 401 del 1989 quella cioè che impedisce uno sportivo di scommettere sulla disciplina che pratica e in questo caso ai calciatori di puntare sul calcio. Insomma l'ipotesi di reato e di scommesse clandestine è la stessa fattispecie contestata a Fagioli, Tonali, Zagnole e Florenzi coinvolti nell'inchiesta di Torino. Nelle indagini risultano coinvolte altre due persone che non sarebbero calciatori. Pastina che ieri pomeriggio si è regolarmente allenato con i compagni avrebbe negato ogni coinvolgimento dichiarato ai militari che il conto di gioco a lui riferibile era nella disponibilità dell'ex compagno Letizia. Il Benevento e gli altri club non sono sotto indagine ma al momento si riservano da rilasciare dichiarazioni. Ciò che trapele è che il Benevento si muoverà per tutelare la propria immagine. I fatti contestati comunque risalgono alla passata stagione quando il club giallorosso è arrivato ultimo in classifica nel campionato di Serie B. La Corte di Appello di Napoli ha confermato una nuova condanna per Fincantieri e Sait, azienda appaltatrice della prima, per risarcire la famiglia di un altro operaio deceduto durante l'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. Un ex operaio di Fincantieri deceduto all'età di 72 anni a causa del mesotelioma aveva contratto la patologia per l'esposizione all'amianto. la morte nel marzo del 2023, la famiglia ha ottenuto un risarciamento milionario magra consolazione rispetto al decesso di una persona ma un passo avanti per la giustizia secondo i legali. Ed ora una brevissima pausa, torniamo con le altre notizie tra pochissimo. Rieccoci per la seconda parte del notiziario, in primo piano il caso Stadio con il botta e risposta tra Comune di Napoli e società. Che se ne sarebbe parlato a lungo tra mille polemiche e dibattiti era ampiamente prevedibile. Parliamo delle dichiarazioni al veleno sul sindaco di Napoli e sul Consiglio Comunale del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis raccolte dai microfoni di Prima allo Stadio Bernabeu di Madrid. Se lo juventino Gaetano Manfredi uscirà fuori dal legame che lo lega al Consiglio Comunale e mi dà lo stadio prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d'Italia. Se invece i consiglieri comunali odiano il Napoli o a Caserto o a Pompei possiamo fare un altro stadio. Napoli e Campania sono un tutt'uno. Il sindaco in Consiglio risponde così. La posizione è mia ma lo che io penso di rappresentare gli interessi della città è sempre la stessa. Certo noi non possiamo regalare lo stadio. Lo stadio è un valore per Napoli e per i tifosi del Napoli. È un bene pubblico. Siamo disponibili a discutere di queste eventualità. Ma lo possiamo fare solamente partendo da una proposta. Proposta che nei fatti non è mai arrivata. Ad aprire il dibattito in aula sulle parole di De Laurentiis Massimo Cilenti di Napoli Libera che annuncia la possibilità di far visionare l'intervista del Presidente alla Procura per eventuali verifiche di reato. Gennaro Acampora del Partito Democratico invece annuncia l'intenzione di chiedere alla dirigente degli impianti sportivi la rendicontazione di tutti i debiti che la SSC Napoli ha con il Comune di Napoli. Da Borriello del Movimento 5 Stelle invece in consiglio arriva la proposta di una revisione della convenzione con il calcio Napoli per la gestione dello stadio Maradona. Intanto la giunta comunale su proposta del sindaco ha approvato la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, l'allenatore di Certaldo che ha guidato il Napoli alla conquista del Terzo Scudetto. Il conferimento avverrà giovedì 7 dicembre alle 10.30 nella Sala dei Baroni di Castelnuovo. Presentato a Napoli e cambiamo argomento il progetto Altri Natali dall'8 al 30 dicembre circa 150 eventi tra cinema e musica che coinvolgeranno le 10 municipalità. La cultura plurale non è solo uno slogan fine a se stesso per Altri Natali 2023, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. La Kermessa Invernale, giunta alla sua seconda edizione, punta su due qualità cardine di Napoli, il suo essere tanto policentrica quanto multiculturale. 150 eventi per 23 giorni di musica, arte, danza, cinema e teatro, in programma in luoghi di ognuna delle 10 municipalità della città, tutto a partire dall'8 di dicembre fino alla fine del mese. La cultura plurale, sottolinea Sergio Locorato, lo coordinatore delle politiche culturali del comune di Napoli, è un titolo potente. L'intenzione del sindaco Manfredi anche quest'anno è stata quella di offrire alla città un grande palinsesto di eventi, quest'anno ci saranno anche le mostre d'arte, quindi abbiamo coperto tutte le manifestazioni artistiche, la danza, il teatro, il cinema, un ampio ventaglio di rassegne, 150 eventi, 80 soggetti che hanno partecipato, 31 assegnatari e vincitori, per veramente 23 giorni di programmazione, quindi un impegno imponente anche dell'amministrazione per un bando che più o meno è costato circa 500 mila euro. Con altre Natali, ha detto il delegato del sindaco per l'industria musicale e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi, continuiamo il percorso di policentrismo di Napoli portato avanti anche con Città della Musica. La musica a Napoli è molto centrale, il progetto Città della Musica è un progetto che sta andando avanti, sta dando grandi soddisfazioni e quindi siamo sempre molto presenti, ma in realtà la particolarità è che la musica si coniuga perfettamente anche con l'audiovisivo e anche con tutte le altre espressioni di arte dal vivo, quindi in questo senso c'è molto spazio alla musica. Il grande cinema su Prima TV, domani alle 21, un grande classico col film Un uomo tranquillo, la pellicola del 1952 vincitrice di due premi Oscar e premiata a Venezia, vede tra gli attori protagonisti John Wayne, Maurino Ara e Barry Fitzgerald. Il protagonista torna in Irlanda, terra della sua famiglia per stabilirsi, dopo aver fatto fortuna come pugile a Pittsburgh, verrà accolto dalla comunità con grande curiosità e con un po' di sospetto. Ancora un appuntamento, Ruggero Home per domani, sabato 12 dicembre alle 18, ha organizzato un evento dedicato agli appassionati di design per presentare i nuovi brand, tante idee regalo, il tutto accompagnato da musica live, degustazioni di panettoni e bollicine. Il team Ruggero Home si è arricchito di nuovi brand made in Italy di grande prestigio per offrire ai propri clienti novità e tendenze che arricchiscono i progetti dello showroom di via Vallara a Cesinali in provincia di Avellino, evento da non perdere. E chiudiamo con una notizia di palinzesto e sudazione di sangue dall'immagine sindonica custodita e nascosta per 58 lunghi anni ad Atripalda in Irpinia. Si trattò di un miracolo? È l'interrogativo a cui proverà a dare una risposta allo speciale Prima TV che andrà in onda. Domenica alle 14.30. L'ascolto di testimoni e ricerche sul campo faranno emergere novità. Vi lasciamo al promo dello speciale e l'informazione termina qui. Buon proseguimento. Questa è la cronaca di un mistero di 65 anni fa. È giovedì 28 maggio 1959, festa del Corpus Domini. Nell'immagine raffigurante il volto di Cristo racchiusa in una cornice di legno e vetro, qualcosa di strano sta avvenendo. Dalla corona di spine scendono rivoli di liquido, sembrano di sangue. www.arrhalili.com.br erano